ben a tutti amici sportivi del canale dei clan fishing e bentornati in questo nuovo video dopo tantissimo tempo stavolta non siamo a pesca ci andiamo sabato e faremo il video ma oggi ci troviamo in un mega unboxing come quello abbiamo fatto con il video di decadon sostanzialmente... comunque ecco samuel ciao ragazzi iniziamo qui vi farò vedere due acquisti cioè ho fatto un acquisto al negozio e il pacco che mi è arrivato oggi dal sito di Biscord come primo acquisto che ho fatto ieri era una canna da trotalago che ho voluto prendere per arricchire un po di più il mio materiale per le gare e anche per pescare il normale a trotalago in questo modo ne ho quattro per il mio porta canna che ne porta quattro e diciamo che sono a posto ovviamente la canna che ho acquistato è la prime una fassa prime da 0.3 e l'ho praticamente imballata è quasi tutta imballata è nuova cioè quindi non so l'unica cosa che so che ho visto è che il cimino è una 0.3 c'è molto più fine di quella di quelle che usiamo di solito che sono le 2.5 dell'agro fishing quelle bianche che avete visto anche in video questo è come si presenta e questo è il cimino non fa così che io ho forza fa così ho scocciato cioè è una sottiletta quindi immagino il divertimento che può esserci per non lasciare non lasciarla vuota diciamo che ho voluto comprare all'ennesimo mulinello perché penso di averne anche troppi e ho voluto acquistare un trabucco rates sr 1000 questo costa 30 euro è un 1000 ma a vederlo sembra un po più grande nel senso giusto la bobina mi è sembrata miglia ma per il resto si anche la bobina di ricambio è bello è più pesante eccolo qui questo 30 euro è carino mi piace e a livello di colori non si abbina al colore della canna però adesso invece passiamo che leggero è però eccolo qua da piscor piscor fishing store ricordo metto tutti i link in descrizione e ho ordinato ho fatto un po di spesuccia sia di avviamento che attrezzatura tecnica per la pesca è aperto ma io non ho ancora visto cioè so cosa c'è dentro ma non ho visto niente iniziamo con una copertura di polistirolo una mini copertura polistirolo ottimo questo utilissimo per la pesca comunque se ci metti un pallino di polistirolo al lamo poi ci metti la camola si presenta così io direi c'è una cosa grande e il resto è tutta roba piccola e poi ci sono i scoppettini che poi ci divertiremo a scoppiare vabbè iniziamo da questo ho preso uno scaldacollo della rapture che può essere utilizzato guarda in quanti modi come scaldacollo scaldacollo e faccia scaldacollo e faccia a naso cappello bandana l'asta montagna l'asta montagna lascio i capelli è un po come quello che mi hanno regalato venire è multiuso adesso l'abbiamo anche tra l'altro è una limited edition l'ho preso per spizio i capelli quindi vado in zero a sabato insomma perché fa abbastanza freddo non mi ricordo vabbè comunque sia non è una spesa esagerata comunque i testi sono buoni ma calcolando anche le marche infatti volevo dirlo in nomura spinning obsession e guardate anche ovviamente con l'etichetta diciamo che mi sto parecchio avvicinando al nomura anche con la scritta in giappo nomura deve essere fatta nomura è un maschio che punta tutto solo sullo spinning quindi fa per lo spinning e suo forte quindi cappellino nomura e pure questo non mi ricordo quanto l'ho pagato poi la scatola magica cosa ci porta? guanti da pesca tubertini chiusi dentro una cosa ermetica non so manco un po' come come? come? ah vado a musicare tubertini allora questo altro marchio che io tecnicamente no c'è pure la sacchettina del mantenimento quella che in teoria fa male da una parte c'è l'altra per su e non mi ricordo manco questi no questi pesa 24 euro eh pesa 24 euro questi portaci tubertini io e Mark io uso principalmente per la pesca per la torta larga vanno su misura eh se ti senti strette per questo no no sono pure larghi oh come so comodi non stringono anzi magari compra pure la taglia un po' più piccola mi cedito vabbè mi cedito mi cedito allora logicamente sono palmo di un tessuto in gomma che era resa per una mica presa per pesce fermi tu zitto zitto indovina indovina allora comunque sia qualcosa che è paddolfo paddolfo? il giochetto no il giochetto la maglietta la volo la peppa la la tuta si la tuta come si chiama quella è fatta apposta per schizzi la parannazze è una parannazze la tuta mi pare sbagli devo ripa' poi non so se è quello è brava è quello è altra la tuta come ho detto prima per la trattata lago 8 volto la tuta la tuta la tuta la tuta la tuta con canne fili e anche questa è la parannazze la cosiddetta parannazze non so da voi ragazzi come si chiama quella che c'è i cuochi, da noi si chiama parannanzi, io ho comprato una parannanzi, ecco la parannanzi. Ah, questo qua per pulirsi e se non erro è staccabile e c'è un po' di ricambio. Questa si attacca così e ecco la parannanzi, qua ci pulisci e qua ci metti... Qui ci pulisci, ti pulisci le mani, è di ricambio, quindi ora la potresti anche mettere dentro un'altra sacchettina per ricambiarla, qua ci metti l'attrezzatura, tubbertini, prendi la canna e si pesca. Simpatica, piscola da parecchi materiali interessanti sia a livello di attrezzatura da pesca sia a livello ma anche te beviamente, tu pensi che se ci vai, ci stanno quelle magliette, magliette, giacchetti, le felpe, i completi, c'è tutto su piscola, tutta roba originale si costicchia un po' però, però, secondo me, c'è stato. Non devo presentare, non lo so. Ma da parecchiate presentaria. Si confonde aria con il gesto di piscola. Altro prodotto, visto, c'è rimasto il pezzo forte. Questa era una cosa che avrei voluto farmi da parecchio per uno come me, che comunque io sto parlando molto di Drotalago, faccio vedere anche le grandi prodotte e tutto. Però, la mia tecnica preferita è sempre stato lo spinning. Cioè, lo spinning è una pesca cui attività. Ho iniziato a pescare spinning e... Non è che se mi piace trottare o non mi piace spinning. A parte che comunque sia, i professionisti dicono che trottare e spinning sono due cose completamente diverse. Io ho iniziato a pescare spinning all'età tua, quindi verso 13-14 anni. Io ho 14 anni. a laghetto e pescavo i black bus, i boccaloni. Con la canna che io pescavo i pesci gatti, quella che ho usato pure al video del lago della botte con i pesci gatti. Quindi la canna da 4 metri, ci ho messo un vermone così, pieno di coperto di sale, sale grosso. Cercavo così e pescavo i black bus. Da là mi è piaciuta la cosa dello spinning. Cioè, la cercavo da tanto tempo per comodità ed è arrivato il pezzo forte, il pezzo più grosso del pappo. Direttamente da Piscor. Tadam! La valigetta da trottaria della Nomura, anche questa. Proprio per rimanere in tema. Nomura special trottaria. Questa è la botta da trottaria. La cosa comoda di queste è che hai dei supporti per portare le canne. In questo caso ho due, tre. Ma uno tecnicamente di questo è fatto per portarmi il retino. No. Si. Cioè, il coso del murinello. Pure questi. Però questi sono più lunghi perché sarebbero fatte apposta per portare le canne. Mentre questa è per il retino. Logicamente io il retino lo porto quello lungo che qua non c'entra. E quindi di conseguenza magari mi porterò tre canne più il retino. E' comodo. Adesso lo abbiamo. Dentro non c'è detto nulla. Io interamente penso sia una scatola vuota dentro. Però è fatta apposta per portare tutta la nostra attrezzatura per la trottaria. Magari dal porta spoon. Dalle scatoline dove abbiamo i crank. Da portare l'izer. E qui è un porta oggetti. Si può portare sia a mano. E sia a spalla. Che io dovrei regolare logicamente. C'è nessuno. E' vuoto. Perché ripeto logicamente qua va tutta la nostra attrezzatura da trottare. Quindi ci possiamo mettere chiaramente un cappellino. I guanti. I redizer. Cosa che io farò a breve. Nel senso magari anche stasera. Anche tanti. Comincio subito a mettere qualcosa qua dentro. I fili. Le trecce. Magari un murinello di ricambio. Tutto quello che vi pare. Mi sembra che questo sia in 20 litri. La scatola logicamente. Altrimenti. Ah 40 litri. Se devo interessare. La credenza della borsa è 40 litri. Comunque sia. Pisco è stato un sito abbastanza serio. Nel senso. Comunque sia. L'ordine era destabilito in una data. Ed è arrivato addirittura in anticipo. Sarebbe dovuto arrivare. O lunedì 4. O domani. Che era 8. E' arrivato oggi. Quindi. Eh. Serietà. Su quanto riguarda. Le spedizioni. Il tuo mazzo c'è anche una gara. Che t'ho dito. E' fantastico. 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 Que bosco forte. E' fantastico. Eau. E' starci Davide. E' fantastico. Ciao ragazzi. Grazie.